Hello guys, io sono Shane e bentornati su Hearthstone, Hearthstone, Houston, Hoston con un nuovo video spacchettamento e anche oggi siamo qui con le nostre classiche 20 bustine di pura gioia ed allegria oggi come varietà non abbiamo tanta perché abbiamo 6 bustine di troviamo un po' di cose a caso e 14 dell'avanzata del re di Leech quindi vediamo un po' in questi set se troviamo qualcosa di gustoso e interessante nel primo pack si prospetta come un nulla di fatto furia del flagello marchio dello scherno scopa di strada chierica furia del sole e infine ultima difesa un pacchetto inutile, insulso e con niente di fatto ma non ci fermiamo passiamo al prossimo che anche questo fa schifo banchetto e caristia plasma carni che combina da questo fa molto ridere dragone arcano gargoyle frantuma pelle e la rara che è esplosione cadaverica ancora niente di speciale ma noi andiamo avanti con il prossimo pacchettino che ci dà una rara, due rare due rare, sempre meglio di prima dai auscultatore del terrore banchetto e caristia ombra dei caduti oscuri la prima rara è sunline tenace mentre l'altra è spargimento d'ombra non stiamo facendo grandi progressi quindi andiamo con il nostro pacchettino di troviamo un po' di tutto e non troviamo un po' di niente corriere risoluto l'importante è che ci cade da lui informatrice dell'IR7 immortalati nella pietra il bracciante e la rara che è dall'altilà che tristezza dai non possiamo andare avanti così almeno una dorata una epica insomma qualcosa niente sirena scagliabrina armaiola di luna argentina trasmutazione fiammeggiante sputa fulmine e la rara che è scarabeomanzia perché la famosa arte di controllare gli scarabei viene tramandata da generazione in generazione vabbè oh una epica un po' un santo finalmente una cosa pirata bandiera pirata bandiera banchetto e carestia quant'eri stavo trovando di banchetto e carestia caporale e incorporeo lanciossa e la epica è plasma energia va bene che devo dire va bene prossimo troviamo anche questo un pochetto o un'altra epica buono strappo della realtà chierica furia del sole pirata bandiera è lui la rara è sbarramento delle anime e la epica è abbiamo fatto anche una cimil buono fletti magie del santuario che non avevamo quindi è comunque worth next pacchetto schifo fedele furia argento sigillo del sangue eruzione della piaga roditore marcio maon e la rara è salian tenace c'è c'è una certa cat che veramente pronunciarle faccio leggermente fatica ma dettaglio tecnico qua c'è qualcosa di interessante un'altra epica ok vento gelido aiutante altruista scorpide velenoso la rara è sigillo della lacrità e la epica è invece ratti maon giganteschi vabbè niente di che però ci siamo fatti un altro achievement quindi va bene così next con rara e pacchetto spuzzo gargoyle frantuma pelle morto vivente geist ombrale furia del flagell quanto è tempo che non vedo sta carta è la rara che è saggezza profonda allora pacchetti potete farmi vedere qualcosa di bello interessante pacchetto spuzzo assalto spettrale assalto spettrale l'ho appena detto erusione della piaga cercatrici di monili non so che si dice monili ma devo fare la gag è la rara scarabeomancia next rara niente 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 zombie persistente creatura barcollante mangiamente furia del flagello e la rara che è lungo passo di luna argenta è il momento della sezione uno per uno iniziamo dal pacchettino rosso che ci presenta con una rara due rare cultista testamorta zannaguzza globo runico la prima rara è la campana di servizio e la seconda rara è il psicodemonio next niente 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 rara niente pacchetto spuzzo armaiola di luna argenta sirena scagliabrina sentinella di luna argenta dardo arcano è la rara che è difensori arcani molto 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 triste la leggenda del trovare qualcosa ancora molto lontana un'altra epica beh meno quella grunt della strada dell'oro zombie pelle fragile ricognizione la rara è l'apprendista avventato e la epica invece è spine urticanti ma che abbiamo ancora trovato neanche una dorata strano non dico leggenda ma è una dorata dici vabbè a me non è trovata una dorata come in ogni pack da quando ho detto le epiche volano plasma carni adesso un banchetto caristia farebbe molto ridere trasmutazione fiammeggiante draghetto d'ambra la rara è il portale di canto eterno e la epica invece custode del tempo ho fatto un altro achievement buono quarto ultimo pochettino che ci presenta un pochetto spuzzo druido giura zanna munizione rispinta furia del flagello la difesa del ponte e la rara che è pesce luna scintillante altre cinque terzo ultimo pochettino ok pochetto spuzzo cercatrici di monili di monili campionessa senza vita è morta saccheggio intrugliatore e la rara che è lo sbaramento delle anni saccheggio non eravamo neanche mai vista come carta ok penultimo pack che ovviamente non ci dà una fava pacchetto spuzzo miserabile frenetico poverino sacerdote del sepolcro protettrice zoccolo freddo è arrivata la dorata bollebot 4 mana 4-4 robot grido di battaglia frenice scudo divino provocato negli altri robot e la rara che è l'ascia del perlustratore ultimo pacchettino che ci darà la leggendaria ovviamente no per due rara assalto spettrale sentinela di luna argenta gargoyle frantrum a pelle la prima rara è risvaglio dei morti e l'ultima rara è il troll finale vabbè non è che abbiamo trovato chissà che roba la se per sé attenzione abbiamo però fatto l'ira dei lice buono buono perché adesso otterremo la monetina quindi è comunque buona cosa abbiamo guadagnato la monetina e ci prendiamo anche un bel po' di essenze 72 comuni doppie che vanno adeggersi alla nostra collezione ok raga come sempre vi ringrazio per la visione vi invito a lasciare un like o commentino sotto il video se l'avete apprezzato e noi ci vediamo al prossimo video qui da Scena è tutto bye bye ciao